Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power del nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali Let's get it boys Let's get it boys Let's get it boys No No Ho la mira di un buon odd oggi Let's get it boys Grazie. 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 Bene ma poteva andare meglio ma credeva per chillare no ma volevo giocare un pochino ho voglia di giocare oddio materiale il twitch con di america dove sarà non l'hanno ancora annunciato Di solito lo fanno a san jose o san francisco non ricordo precisamente quindi scusami se non te lo so dire loot panda rosa Adesso pariamo a marzo ma con muro gli olio bene marzo pensi che ben ci possa essere una rivoluzione a work up assolutamente sì Concordo con te su queste cose molto bravo intelligente forte assolutamente Sti peperoni dove stanno stanno qua in questa zona dei fiumi l'ho visti una volta marzone pro player gli olio bene a marzo scherziamo ragazzi Capitelo cioè io spero che capite io faccio molta ironia specialmente con chi è mio amico Questa settimana dovrebbero partire le maglie del primo giveaway quello dei 7000 sub e la maglia che ha vinto il ragazzo per i 6500 Il mondo è bello perché c'è pa dove c'è pata c'è gioia E smoke Meglio saper sparare o costruire se intendi su fortnite Uno può arrivare tranquillamente in endgame senza sparare un colpo o senza saper sparare effettivamente bene perché tanto quello che fa poi è il E come ti muovi la What No troppo lontano Diciamo che magari in duo uno può essere quello più bravo a sparare l'altro più bravo a buildare perché ci sono sempre un frontman E' uno che segue che è dietro Meglio le bando Meglio le bando No ma qua farma i materiali oh Ma sti materiali scusate quanto da se picco qua 15 poco ok 5 jump What Ma che hai tutti sti materiali oh Sì guarda sono felicissimo di avere tutti sti materiali perché li flexi Flexi i materiali like a boss però ora se incontro una squadra 4 mi ammazzo Sono veramente stanco si sente dalla voce no Però ho voglia di giocare avevo voglia di fare Ho un pochino di Di giocare in generale di essere qui con voi a parlare in streaming Anche se sono stanco Volevo venire qua a farlo Ah lì sono sti materiali Sì 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 Mi giuro sto faticando a capire dove mi sparano le frecce Sì Sì Uno di quattro 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 Dov'è oh Che cazzo vuole questo? Che è successo? Non ho capito No ragazzi stiamo andando a salutare mia madre Mi ha sparato un razzo vero? Uno di quattro Uno di quattro Uno di quattro Questo qui è un altro game da 22 bombe per Paolo Cannone Paolitos e mi raccomando e mi raccomando in chat quando dovete supportare il Polone Spam this Doritos to help Paulitos Spam this Doritos to help Paulitos Uno di quattro Il quattro